Sabato 9 settembre 2023, sono da poco passate le 20, buonasera a tutti i ragazzi, state ascoltando la voce di Marco Ferraris, abbiamo qui Eddie Virus, ciao Eddie Ciao ragazzi, grazie per l'invito Spesso noi col pagante ci troviamo per lo più ad essere ospiti di altre serate dove l'organizzazione è un po' lasciata al caso, nel senso che c'è il vocalist che sbaglia persino a farci l'introduzione Insomma una serie di cose che ci hanno portato a pensare, ma perché non creiamo una serata completamente nostro, un format completamente nostro, cioè come i DJ ai bizzano la loro serata no? E si creano tutto quanto loro dall'arredamento del locale ai DJ che suonano all'animazione, perché non creiamo qualcosa di nostro cercando di portare quel concetto lì in Italia? E' una cosa molto difficile, molto ambiziosa, però è stimolante, proviamo, e quindi abbiamo creato Magnana, abbiamo esordito Al Cocoricò, poi abbiamo fatto una serata a Milano con Mark & Cremont all'Alcatraz E quest'estate abbiamo fatto diversi club in giro per l'Italia, a Magallipoli, agli Esul, eccetera eccetera Deve essere un concetto da club, qualcosa che succede nel club, quindi in un contesto piccolo, no? E cercare di ricreare quella situazione musicale, di ricreare una storia dall'inizio della serata alla fine, creando un percorso musicale che sia diverso dalla concezione, dal solito, da quello che senti normalmente nelle discoteche italiane Quindi niente reggaeton Cassa dritta, tanto gusto, music house, tech house... E' probabilmente Lai, Lai è un posto incredibile, ho suonato a sentire Eric Price, non l'avevo mai sentito, ha suonato, non è la mia concezione di DJ Eric Price, perché comunque il DJ secondo me deve avere la festa dietro di sé Deve avere le ragazze che ballano, deve essere una situazione in boiler room, Eric Price suona da solo in mezzo a due schermi dove viene proiettato praticamente un film in 3D tra di lui Lui invece suona in mezzo a questi due schermi che sembrano delle zanzarie, due schermi molto sottili Dove vengono proiettati delle immagini in 3D che sembra... Cioè che tu rimani catturato dalla musica perché è tutto un trip, tutto un viaggio, non è una roba molto ballabile ma molto orecchiabile E poi viene catturato da queste immagini, tutti questi effetti, questi colori, è fighissimo